Socrates introducirà un sistema innovativo che potrà detestare gli intrudori nel spectrum prima che la sua threat possa diventare serena, detestando la sua location geografica. I sistemi attivati non possono capire questo problema, sono bambini e costruiti. Socrates introducirà un'architettura internazionale internazionale che avvicinano trendi emergenti in tecnologie e scienze, come big data, network neurali e crowdsourcing. Il Spectrum è un risultato scarico e il protetto significa protettere le opportunità economiche delle network come 5G, GPS e comunicazione aviace. Ma con le tecnologie di oggi e le instruzioni online è molto facile per gli attacchi di creare problemi disruptivi per questa comunicazione. esempi sono, per esempio, i torri di cellulare falsi che possono intercettare il traffico dai dispositivi mobili e i jammati che possono distruggere la comunicazione dei droni. Ci sono molte ragioni importanti per questo. Prima, useremo l'elettro sensore che è già operativa in produzione a piccola scala. Secondo, collaboriamo con partenze come Q11 e ElectroSense e abbiamo una collaborazione molto lunga con loro e questo permette di dare un inizio semplice del progetto. E finalmente, useremo un approccio agile che permette di dare dei demonstratori in questo progetto e introdurre feedback da potenti Stakeholders.